Si recusa in vesto un'anziana signora che attraversava sulle strisce pedonali e scappano subito dopo. Alle 18 di ieri in via Lentino una signora di 77 anni stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali quando veniva travolta da uno scooter con a bordo due uomini che nell'impatto cadevano a terra ma si rialzavano non prestando soccorso alla vittima rimasta inerme sull'asfalto e fuggivano. Subito dopo alcuni presenti chiamavano i soccorsi e poco dopo un'ambulanza soccorreva la vittima portandone in ospedale in gravissime condizioni. Contestualmente intervenivano gli agenti di una volante che raccoglieva immediate informazioni ascoltando le persone che avevano assistito all'incidente e evitando che il luogo del sinistro stradale fosse contaminato dai curiosi. I primi accertamenti esperiti dai poliziotti cominciavano a fare piena luce sulla dinamica dell'incidente e sulla identità dei pirati della strada che sapendo di essere braccati dalla polizia di strada si presentavano presso i locali della costura e venivano presi in consegna dagli investigatori della squadra mobile che li denunciavano per i reati finora commessi ovvero l'autista del mezzo, un giovane di 20 anni per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso mentre il 39enne per omissione di soccorso.